e siamo in diretta dal luogo dove il Papa pronunciò il famoso discorso che si concluse dopo preghiera e cose eccetera dicendo che leggeva solo il messaggero ma dai stava qui stava praticamente la pagina della luna quindi c'è una continuità la nostra spirituale si stanno candidando è una notizia senza forzare la mano vabbè giornale laico però adesso non esageriamo giornale laico allora Marco Presto Antonello Dose il ruggito del coniglio che prende possesso nuovamente del messaggero dopo tanti anni anche di collaborazione come no grazie grazie della vostra grazie a voi grazie a te ci tenevamo che ci foste anche voi che avete segnato con il vostro buon umore anche appunto il buon umore dei romani che poi dei romani di italiani tutti i lettori del messaggero per un po' di anni oh ruggito del coniglio scusate quando si è a ventotto? siamo sì ventinovesima edizione ventinovesima edizione quindi ci siamo siamo vicini al trentennale siamo vicini al trentennale siamo vicini al trentennale e che dire e si sentono tutti no? si sentono no no vabbè adesso sembra ieri che abbiamo cominciato ma com'è? sì no sembra ieri si dice sempre così non è vero in realtà ho molta più sciatica di quando ho cominciato devo dire è impressionante quando ti ferma la gente per strada perché ti ferma la gente per strada e dice io vi ascoltavo quando nonno mi portava a scuola sì ma la cosa strana è che la gente per me è stata e non ci picchia ancora ok questa è la prima sorpresa è questa presta è arrivata il momento voglio chiedere devo fare una domanda a scopo la devo fare purtroppo nel mio dovere state seguendo tutta la questione la questione della pensione età no? stiamo seguendo non perché noi no esatto volevo capire qual è la quota cioè nel senso è considerato un mestiere usurante cioè avete una quota vostra tipo quota 42 quota 30 35 36 come funziona? guarda proprio ieri mio fratello pensionato IMS mi ha detto senti tu hai iniziato a lavorare come attore a 17 18 anni e ti hanno messo al minimo sindacale poi ti sei fatto questi 30 anni e passa di Rai secondo me dovresti fare un controllo ecco perché secondo me è un modo carino del fratello per dire vi dovete togliere dai maroni ecco e ci vuole bene è differente perché è un fratello perché un altro l'avrebbe detto dritto per dritto no boh la verità è che in questo mestiere è quando ti mandano via esatto e il che accadrà inevitabilmente però sai la verità è che banale dirlo ancora ci si diverte tanto 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 e questo avete una serie di responsabilità che qualcuno potrebbe interpretare soprattutto lui soprattutto lui perché in realtà dentro perché il ruggito del coniglio è stato anche una grandissima palestra sì sì abbiamo avuto tanti collaboratori tanti amici ancora ne abbiamo e ancora ne avremo però però sì anche perché se no non ce la fai a resistere trent'anni cioè se no a un certo punto non c'è dare capocciata agli spigoli di via siago invece il fatto di comunque avere dei collaboratori degli amici che lavorano con te con cui ti diverti ti aiuta ad andare avanti anche perché poi ci sono molti elementi disumani in quello che facciamo beh sì in primis l'orario la sveglia del mattino che voi vi svegliate non lo so più cinque e mezza sì una cosa così cinque e mezza diciamo secondo Fiorello sareste dormiglioni praticamente siamo dei pigri si però non lo fa da trent'anni lo fa qualche settimana in meno e quindi poi a quel lì monti in macchina in stato confusionale vai verso come il cavallo di zorro va da solo la macchina e va verso lì Asiago dove ci guardiamo in faccia ci facciamo schifo a vicenda non umani non umani e comincia il programma e da lì comincia il divertimento però francamente è come un servizio militare protratto con la differenza che almeno non devi fare il saluto ecco mettiamola così quello no ma invece me lo fanno a voi il saluto cioè nel senso per esempio nel senso dopo trent'anni dentro Via Asiago sempre a Via Asiago vedete il traslusso sempre a Via Asiago io stamattina c'era il passi devo fare il passi mi ho chiesto come si chiama io Antonello sono cose che fanno soddisfazione Tosi cioè è bello che è cambiata sono cambiata vigilante sono cambiata dalla società in appalto e quindi è sempre una cosa nuova ma c'è un episodio su questo però più clamoroso che probabilmente sapete che raccontava Vine che un giorno lui entrò in Via Asiago e c'era un signore che non riusciva a entrare e da sotto chiamavano su i dirigenti qui c'è un vecchio c'è un vecchio c'è una chitarra che dovevo fare era Segovia quindi noi Segovia negli ultimi anni della sua vita c'è un vecchio c'è una chitarra era Segovia va bene sentite Radio 2 dove siete stanziali appunto diciamo da così tanto tempo in realtà ha un po' la caratteristica di essere diciamo un emittente che riesce ad avere un grande rapporto di durata anche con altre trasmissioni l'altro giorno abbiamo assistito io ero personalmente ai vent'anni di Lille Greg penso a Blackout cambiando tanti interpreti però la grande idea iniziale è proprio di Vime che è stato un po' il vostro scopritore insomma comunque in qualche maniera poi ne voglio parlare è Radio 2 la migliore radio che c'è in Italia adesso non lo diciamo perché ci lavoriamo io chiedo scusa anche per la ruffianeria di dose c'è un mutuo pesante da pagare io non ascolto altro però è vero che ci sono delle trasmissioni che diventano poi una sorta di rito collettivo 610 è una di queste è Blackout sicuramente penso a Caterpilla Caterpilla come no eccetera e quindi c'è una sorta di assuefazione del pubblico diciamo e ritorno al discorso della palestra ragazzi perché vorrei capire qual è stata forse la soddisfazione quel tipo magari di attore che attrice magari che anche grazie a voi al lavoro fatto lì in qualche maniera ha trovato quel palcoscenico che era giusto che avessi ma la prima che mi viene in mente è Paoletta Minaccione che già aveva esperienze di radio però insomma già aveva lavorato con Osset che già aveva le sue belle però insomma parliamo ormai di una collaborazione pluridecennale quindi sicuramente ma lo stesso Max Pagliella che adesso fa danni giustamente con successo per tutta Italia era giovanissimo spesso insieme a Greg Claudio molto spesso insieme a Claudio sai cos'è che diventeranno così famosi che a un certo punto ci si lascia fingeranno di non riconoscere guarda non posso oggi veramente devo andare allora vi chiedo vi è mai capitato di far finta di non riconoscere Vaime? mai mai Enrico è stato un maestro è stato un amico caro e soprattutto è stato l'uomo più divertente e spiritoso che potevi incontrare e con cui potevi sperare di passare una serata era figlio di un'altra Italia entravi a casa sua e c'era una lettera di Ennio Flaiano che si complimentava per una cosa poi c'era una cosa di Zavattini poi c'era Bianciardi poi c'era per noi ragazzi di periferia è stata l'occasione per conoscere un'altra Italia che già all'epoca esisteva poco siamo stati miracolati ora ci chiediamo ma perché ci ha preso sotto la sua alla protettrice un momento di lui diceva è stato un momento di distrazione e aveva ragione però aveva ragione entrambi venendo da quella tradizione che poi non a caso vede in Flaiano l'abbiamo prima visto insomma in una delle sue frasi in quel caso ci riguardava insomma però ovviamente che rappresenta perfettamente lo stile direi proprio lo stile anche morale se vogliamo proprio ecco questo tipo di di capacità anche di scrittura cioè quanto c'è di scritto nel vostro lavoro quotidiano e quanto invece è la capacità ormai diciamo da mestieranti anche giusto anche dirlo perché è bello dirlo dentro quelle vostre oltre due le idee guarda c'è c'è un lavoro di scrittura che riguarda l'editoriale che riguarda gli sketch con i comici che vengono e poi c'è una grande parte di improvvisazione da saltimbanco è vero è la verità insomma è una tradizione che da noi va avanti dalla commedia dell'arte in poi quindi siamo improvvisatori mi pare che la capacità di improvvisare sia una caratteristica ormai non più solo dello spettacolo ma allargata alla politica alla finanza l'improvvisazione riesca bene bisogna che venga su due binari molto solidi altrimenti un attimo e in questo noi abbiamo cioè dei rituali che si ripetono ormai tutte le mattine la scaletta fatta a mano lui viene col termos del caffè c'ha il termos del caffè sembriamo i giovani marmotti che ne sa tutto il lavoro sull'attualità tutta la ricerca delle notizie hai sottolineato la scaletta fatta a mano fatta a mano perché è così importante perché dà l'idea di quanto siamo due creature spreggevoli secondo me perché sei quantosette antichi sì purtroppo o il pennarello in diretta se tu non c'hai il foglio sott'occhio perdi un tempo nel recuperarlo certo e questa cosa girando per esempio su un ipad succede molto spesso che basta un touch sbagliato e tu sei completamente senza la notizia senza perché si vede anche nelle trasmissioni il touch si chiama così proprio per l'esclamazione esatto che ti tira fuori quando non funziona questi dispositivi li portiamo da casa vabbè adesso li portiamo da casa comunque sia c'è anche scaramanzia perché perché la prima scaletta della prima fu fatta a mano sopravvivemmo alla prima edizione esatto e allora dicevamo ma non tocchiamo niente e quindi siamo ancora c'è stato un momento in queste 29 edizioni 28 anni che disparivano fondamentalmente in cui avete pensato che non sarebbe santo a tutti gli anni sì allora questo è un programma noi abbiamo un contratto annuale noi finiamo a giugno ed è finita stranamente ci richiamano e lo rifacciamo quindi questo tipo di ma è una cosa che mi piace molto devo dire sì che non è niente per scontato due o tre momenti in cui in cui sono successe cose vabbè per colpa tua anche per colpa soprattutto per colpa mia per cui è stata chiesta anche la soppressione del programma a livello politico la soppressata la soppressata volevo fare la soppressata di programma e invece veramente vedi come la fortuna gioca un ruolo fondamentale ma la fortuna devo dire gioca un ruolo fondamentale dall'inizio di questo programma che inizia casualmente viene salvato casualmente da un grande personaggio cioè succedono cose che ti fanno dire sì tu lavora sodo fai la più fatica che puoi ma se non hai un minimo di occasione di fortuna è più faticoso forse di un disegno di un disegno di cui noi non siamo protagonisti disegnato da qualcun altro lo scarabocchio nel caso nostro devono andare in un certo modo sono cambiate tante cose nelle vostre vite sì ne avete passate tante Anzonello raccontate molte in un libro biografico che peraltro è stato ho scoperto molto utile per tante persone perché credo che insomma la tua direbbero quelli bravi la resilienza che hai dimostrato in tanti circostanze non voglio morire non voglio morire è fatto guarda c'è sta cosa guarda questo istinto alla sopravvivene è fatto questo la gente è strana voglio vedere come fa a finire esatto in Italia non fa mai a finire in che però giocherà la nostra lunghevità è stato un momento però Marco in cui lui ti ha messo un po' in difficoltà con un vari momenti però un momento serio in cui ti ha messo in difficoltà perché siete molto amici da tantissimo siete era vivo Marconi era vivo Marconi ma soprattutto nel millennio scorso non solo nel millennio scorso ma soprattutto frequentavate credo lo stesso oratorio a Cinecittà San Policarpo esatto chiesa di Roma Sud esattamente e lì ci conoscivo da quella chiesa di Roma Sud e poi c'è stato un momento importante della tua vita quando tu hai scoperto la tua sieropositività e non voglio ripetere richiedertelo però quel pudore nel non raccontarlo a una persona così vicina cosa è stata una protezione era protezione sua e protezione mia io penso che quando ti dicono che hai una malattia mortale non ci sono medicine per curarla lo sforzo più grosso è continuare a vivere non facendo finta di niente perché tu sei di mattina ti svegli e tu hai questa cosa molto chiara ma che l'ambiente te lo ricordi continuamente è stata una forma di protezione sua e mia protezione anche io non si sapeva niente in quegli anni io non ho mai preso in braccio i suoi figli non ho mai preso in braccio i miei nipoti che ne so le notizie erano così frammentarie che arrivavano quindi diciamo una sorta che poi dice vabbè perché adesso rovinare tutto cioè io l'ho fatto quando è stato possibile farlo quando è stato quando l'ho detto anche ai miei genitori per esempio che non è stato un passo il problema è che lui adesso prende in braccio i nipoti che però pesano per rifarsi non è proprio ma ci sono tre colossi e mi rischia l'ernia esatto sarebbero le cronache di ernia ci diventano traiel di vaccini di vaccini terapeutici anzi se non avessi superato l'età mi offrirei come volontario per fare da cavia esatto diciamo che adesso con la sigla conoscete tutti UU se non puoi trovarlo nel sangue non sei più contagioso questo cambia tutto dovrebbe cambiare anche allo stigma sull'argomento assolutamente assolutamente sì anche se non è così scontato scontato insomma io penso che diciamo nei prossimi trent'anni di Ruggito del Coniglio io credo che l'annuncio spero proprio subito prima della mummificazione esatto riuscirete a darlo la scrittura al centro di tutto la scrittura persino appunto di questa rubrica questa era domenica aperta il calcio in palla integrazione palla integrazione palla integrazione abbiamo le prove domenica aperto come no esattamente come no e invece questa l'intervista che vi ho fatto io questo cos'era 25 anni 25 anni ecco c'è la testimonianza peraltro di un Marco Presta con un ciuffo di capelli eccolo qua abusivo peraltro no no è vero è vero cioè hai cominciato con i capelli portatore sano portatore sano dei capelli ma io ho cominciato con tantissimi capelli ero la Caterina Caselli di Cinecittà cioè c'avevo un caschetto bellissimo poi Pianoiano purtroppo come dire alla vita alle sue quotientate prima o poi le farò uscire e mi ricatta mi ricatta oh entrambi avete però un'esperienza di formazione attoriale importante se lo ricordate un minimo diciamo ecco Marco io ho fatto l'Accademia Arte Drammatica all'epoca c'erano insegnanti strepitosi avevamo Monica Vitti Paolo Panelli Luca Ronconi mi ricordo il tuo saggio finale con Luca Ronconi la leggera di Ronconi sì ed era Corazio Costa forse era già andato era già andato però un nome e un metodo sì un nome e un metodo però in quegli anni ancora uscivano una marea di attori importanti ne usciranno ancora in futuro sicuramente però erano gli anni Corso con te chi c'era? C'era Zigaretti per esempio noi ci diplomamo c'era Populizio c'era l'anno dopo c'era Margherita Bui c'era la Sabina Guzzanti c'era appena Diplomato Castellitto Rubini poi si sarebbe Diplomato Favino insomma era ancora una profluvio di talento e io per fortuna del teatro italiano ho smesso abbastanza presto e ho fatto il deficiente sulla radio però erano anni molto felici ma vi ritrovate qualche volta? vi è capitato? capita ogni tanto con Luca un paio di volte ci siamo rincontrati abbiamo visto delle foto di uno spettacolo insieme in cui entrambi avevamo i capelli con Adriana Asti protagonista ogni tanto capita ogni tanto capita che vada a vedere Massimo Popolizio a teatro è bello rivedersi e insomma ricordare come è inevitabile Antonello invece tu? beh io ho iniziato ancora prima di lui adesso graficamente sono più giovane però io ho finito sono partito avete sempre sto fermino ce lo mette sempre sempre la frecciatina la devi dare per la scuola internazionale di antropologia teatrale di Eugenio Barba dove io ero l'elemento su cui fare esperimenti questo non sa fare niente è incapace e anche impicciato emotivamente guardate cosa si può segnare lui era come un criceto lì era come c'è venuto gli esperimenti sopra dopo di che sono stato adottato dal centro per la ricerca di Pontedera guidato da Roberto Bacci e sono stato per sei anni a fare l'attore in giro per i festival d'Europa con loro quindi ho respirato questa atmosfera del teatro di ricerca di tutto il continente è stata una grande fortuna abbiamo visto questa mostra delle questa sintesi estrema perché io ho fatto un conto che più o meno sono circa 55.000 le prime pagine del messaggero di questi anni da quelli mi ricordo che per fare questa roba siamo partiti da una selezione di 300-400 poi siamo diventate 50 in alcuni casi ne abbiamo dovute scegliere 8 è difficilissimo ovviamente abbiamo scelto per storie oltre che per storia e vi chiedo invece qual è quella che avete visto alla quale siete un po' più legati in qualche maniera sai guardando queste pagine che sono tutte molto belle interessanti capisci come è veramente questo è è un pregio di un grande quotidiano capisci come funziona la storia dell'umanità perché se tu ci pensi sono più le pagine tragiche di quelle straordinariamente felici e questo perché l'essere umano ha la curiosa tendenza a rovinare l'esistenza a se stesse e agli altri però vedi guarda sicuramente sicuramente il ciao ad Alberto Sordi me lo ricordo mi ricordo la sensazione strana che provai il dolore che provai che era un dolore da romano e basta e fu una sensazione e mi ricordo che andai a comprare il giornale noi avevamo la notizia in diretta mentre eravamo in onda col coniglio e cambiamo nel tempo di un attimo completamente il programma e dicevo signore è morto Alberto Sordi che volete di basta e uscì fuori Roma e chiamarono e uscì fuori l'Italia perdonami chiamarono 7 miliardi di persone tutti dicendo cose perché questa è la prerogativa dei grandi personaggi tutti dicendo cose persone comuni non erano addetti ai lavori e tutti dicevano una cosa significativa bella commovente da pubblico su Alberto Sordi e fu una puntata strepitosa peraltro non lì ma in via del babbuino ha scritto anzi ha inciso pagine meravigliose dove c'era la sede della RAI la vecchia sede della RAI della Radio RAI e quindi chiaramente è stato un grande protagonista della radiofonia italiana ma noi pensa che noi lo conoscemmo in realtà ce lo presentarono sì perché lui quell'anno era presidente di giuria di Miss Italia noi eravamo figure di giurati e in più facevamo una radiocronaca dell'avvenimento e noi non osavamo avvicinarci che mamma avvicina Alberto Sordi ma che sono scarafaggio che vado a fare e invece il sufficio stampa che ci ascoltava andò e disse Alberto quei due signori vorrebbero Paola Paola Comin esattamente Paola Comin Paola ciao ti amiamo Paola si avvicinò Alberto e dice quei due ragazzi che vorrebbero salutare che fanno ma questi che fanno dice ruggito del coniglio e Sordi commentò ma non è una cosa seria e ci aveva assolutamente ragione e aveva assolutamente ragione allora Marco Antonello veramente grazie grazie a te grazie a voi e tanti auguri e viva il messaggero grazie grazie molte mi viene mi vengono in mente tante cose che abbiamo anche fatto insieme e tante che ne faremo tante ne faremo e sicuramente bello è stato quando abbiamo avuto la possibilità di raccontare anche un momento particolarissimo dell'Italia no Marco quando tu mi facessi quel racconto da Cinecittà come no a Via Asia come no nell'isolamento del covid insomma tante cose belle che abbiamo fatto insieme allora grazie grazie ancora e ovviamente un pomeriggio che passate magari guardate osservate peraltro so che è una zona questa particolarmente legata al cuore di Antonello e quel crocevia di Via del Tritone ogni pomeriggio si illumina con questo spettacolo che abbiamo insieme con Enel e mi piacerebbe se vi capita che voi deste un'occhiata e magari postaste qualcosa lo faremo con grande gioia assolutamente condizionali insomma stasemmo cavata anche stavolta anche stavolta è andata grazie tanti auguri grazie a tutti buon lavoro grazie grazie a tutti